Io mi sto trovando bene, ripeto, poi io lavoro ogni giorno per farmi trovare pronto dal misto e poi se mi vuole far giocare con la difesa a tre o come terzino sono contento comunque, quindi spero di dare il mio contributo ogni domenica. Quello sicuramente, però non è che nello scorso anno non volevo magari dare il mio contributo alla squadra, se mi chiedi cosa è cambiato non lo so, però ripeto, so benissimo che magari sto facendo bene a confronto allo scorso anno, però ripeto, io non voglio parlare dello scorso anno perché ormai è un anno passato, è stato un anno brutto e difficile per noi e credo che quest'anno sia tutta un'altra musica. Io credo che non dobbiamo fare paragoni nello scorso anno perché ormai è un anno passato e quest'anno è tutta un'altra, secondo me, un'altra annata e abbiamo anche forse molto più stima nei nostri confronti e ripeto, domenica sarà difficilissima perché loro sono una squadra importante e noi come ogni domenica cerchiamo di dare il massimo. Ma il termo ci deve arrivare con la consapevolezza nei propri mezzi, con la consapevolezza che in ogni campo può fare risultato e secondo me è una partita che capita proprio a pennello perché dopo una prestazione un po' così, un risultato magari che ci va un po' stretto, andare in un campo difficile contro una scuola organizzata che da tanti anni fa questa categoria, adesso gravita nelle zone alte della classifica, secondo me deve essere da stimolo anche andando in uno stadio da Serie A praticamente, quindi noi dobbiamo andare lì con la massima tranquillità e con la voglia di fare bene. Non so se è un nostro difetto o che cosa, però noi dati alla mano contro le grandi, diciamo che non dico che ammettiamo più voglia, perché la voglia c'è sempre, la voglia di sudare la maglia c'è, noi comunque andiamo sempre con l'obiettivo di fare il risultato, però è ovvio che quando magari giochi contro le grandi squadre inconsciamente qualcosa di più lo metti sempre, quindi ci portiamo dentro questo. Grazie.